Musica Amici di Antena Sud, ben ritrovati al nostro appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Diamo insieme uno sguardo alla situazione generale prevista per venerdì 27 luglio. Alta pressione ma con correnti nord-occidentali favorisce una bella giornata di sole su Puglia, Molise e Basilicata, pur con qualche innocuo addensamento all'interno. Ed ora diamo uno sguardo più da vicino alla situazione della Puglia. In Puglia al mattino soleggiato con cieli sereni, nel pomeriggio persisterà il bel tempo. Spazio adesso alle previsioni per Basilicata e Molise. In Basilicata al mattino soleggiato con poche nubi nel pomeriggio, bel tempo con cieli sereni. In Molise al mattino sole e cieli sereni, nel pomeriggio soleggiato con lievi addensamenti. E infine la situazione di temperature, venti e mari. Temperature in ulteriore lieve ascesa ma con caldo ancora nella norma. Per ora è tutto con le nostre previsioni, vi ringrazio per averci seguito e vi lascio in buona compagnia con i programmi di Antena Sud. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.